Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Io credo che la maggior parte di voi avrà preso della notizia della positività al covid-19 di Silvio Berlusconi. Ora io stamane ho voluto attentamente ascoltare radiogiornali, telegiornali, la stampa, in generale i media, la reazione dei media, la reazione della politica. Ora la reazione è stata praticamente unanime, sia da parte dell'opposizione sia da parte del governo della sinistra, di incoraggiamento nei confronti di Silvio Berlusconi con frasi tipo dai sei un leone, ce la farai, ancora una volta supererai anche questa. E questo da parte di Matteo Salvini, da parte di Giorgia Meloni e a sinistra da parte dello stesso Di Maio, di Zingaretti, che hanno incoraggiato il cavaliere a reagire e a riprendersi il prima possibile. Ora, sembra che Silvio Berlusconi sia in un ospedale, in un letto d'ospedale moribondo. E invece sta benissimo, è asintomatico e se non gli avessero fatto i tamponi non avrebbe neanche scoperto di essere positivo. Cos'è successo? Rientrando dalla Sardegna, gli hanno fatto un tampone. Tra l'altro lui, se vi ricordate, era stato anche a contatto con lo stesso briatore che gli aveva fatto visita. E quindi, messe insieme queste due cose, ha voluto fargli due o tre tamponi e al terzo è risultato positivo. Ma ripeto, è asintomatico e sta benissimo. Ancora una volta questo ci dimostra come questo regime vuole far credere all'opinione pubblica che siamo di fronte ad una malattia grave, una malattia che se ti colpisce è dura da poter guarire in tempi brevi, che bisogna essere dei leoni, che bisogna essere capaci di combattere e di reagire alla malattia. Ma lui non è malato. Lo ripeto, non è malato. Ora vedete che il problema più grande che noi continuiamo ad avere in questo paese è la disinformazione. Spesso l'informazione parla a proposito di coloro che invece ci raccontano esattamente come stanno le cose, dicono che appunto noi siamo negazionisti. Mentre se ci riflettiamo è esattamente il contrario. I negazionisti sono loro perché negano che non esiste un'emergenza. Questo è il negazionismo e al contrario sono loro negazionisti. Ora questo dell'informazione rappresenta l'enorme problema, la grande montagna che noi abbiamo di fronte da scalare. Perché come ho avuto più volte modo di sottolineare? La gente non è informata. La gente non sa nulla di quello che accade. Sa semplicemente che tutti i giorni nessuno escluso l'argomento principale è il covid. Molto spesso quando fa comodo alle testate giornalistiche danno semplicemente il dato soprattutto se è in aumento dicendo attenzione dati in aumento. Pochissimi sottolineano il fatto, qualcuno per carità lo fa e quindi io lo dico che però siamo in presenza di un numero sempre crescente di tamponi. Ieri sono stati oltre 100.000 tamponi. Capite? Quindi è evidente che la gente non sa quello che succede. Piano piano un pezzetto alla volta gli viene tolta la libertà senza che le persone se ne accorgono. Siccome al momento non hanno ancora toccato i conti correnti tutto va bene, l'importante è portare a casa il proprio stipendio per poter vivere decorosamente. Questa è la situazione. Tra l'altro poi devo dire che ultimamente rispetto a quello che vedo nel web anche il web non aiuta molto e ho potuto sperimentarlo io nel weekend no? Perché esistono varie categorie di persone. Io devo dire onestamente rispetto a quello che leggo sul mio canale ci sono in maggioranza persone assolutamente informate, assolutamente persone che scrivono affrontando anche un dibattito, un contraddittorio come deve essere. Io spesso quando posso rispondo chiaramente e questo è solo positivo, deve essere così e l'ho sottolineato molte volte. Poi però esiste una categoria purtroppo assai numerosa di quelli che invece se tu non gli racconti quello che loro vogliono sentirsi dire loro a questo punto ti scrivono no no allora non fai per me ti abbandono tolgo l'iscrizione no no così non mi va bene. Cioè semplicemente tornando all'esempio di due tre giorni fa se tu non dici a a certe persone che i partecipanti erano 5 10 milioni ma magari cerchi o provi rispetto alle informazioni che tu hai avuto dalla Germania direttamente provi a dire esattamente come stanno le cose ti si scagliano addirittura contro qualcuno magari in maniera meno aggressiva qualcuno addirittura in maniera maleducata perché ripeto non si sono sentiti dire quello che loro vogliono sentirsi dire ed è una categoria di persone molto pericolosa che purtroppo però fa numero nel nostro paese e stavo dicendo la disinformazione che io vedo anche sul web non aiuta in questo caso. L'altro giorno ho letto un titolo pazzesco veramente pazzesco testualmente spaventoso tso perbriatore capite che un titolo del genere non lo si può scrivere e se tu scrivi un titolo del genere hai un unico obiettivo di stupire di attirare le persone ad aprire il tuo video ad iscriversi al tuo canale non hai nulla di patriottico non te ne importa nulla di fare informazione ma vuoi fare solo sensazionalismo e questo non va bene e noi tutti dovremmo bandire queste persone io non voglio attaccarmi agli uni agli altri perché ripeto come qualcuno mi ha scritto tutti hanno diritto di dire la loro ma attenzione fino a un certo limite cioè tutti hanno diritto di dire le cose in maniera veritiera poi ci sono alcune cose venali altre meno venali ma voi capite che un titolo del genere non è venale spaventoso tso perbriatore perché se fosse vero sarebbe una cosa di un'assoluta gravità ma non è vera perché lo sappiamo lui è andato volontariamente in ospedale per farsi curare una prostatite li poi hanno scoperto che era anche positivo ha potuto lasciare tranquillamente l'ospedale e in questo momento si trova al proprio domicilio per far trascorrere i 14 giorni quindi il grande problema continua ad essere la comunicazione la gente non è informata la gente non vuole essere informata c'è una categoria come abbiamo detto che vuole sentirsi dire quello che a loro piace altrimenti passa oltre e questo crea un enorme un enorme problema nel nostro paese e quindi tutti quanti coloro che sono legati a un'informazione veritiera che hanno la voglia di approfondire lo devono fare perché è molto molto importante con questo vi lascio vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi